Quando ho scoperto che con le opinioni degli altri non ci pagavo le bollette, ho smesso di prendere le opinioni delle persone. Uno, prendo le informazioni solo da chi è più ricco di me. Due, prendo le informazioni solo da chi ha già ottenuto i risultati che voglio vedere in quell'ambito. Qualunque ambito sia, che sia il kitesurfing, che sia l'online marketing, che sia la compravendita di patate blu. E c'è un motivo perché ho detto le patate blu. Quindi, se c'è una persona che ha ottenuto quel risultato, io seguo, cerco di capire che cosa ha fatto e cerco di fare più o meno come questa persona.